Ops, tutti, 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 i miei cari upsini, upsine, come state? Come state? Come state? Spero veramente bene, dai. Oggi sono qui solo per voi, ovviamente, per fare questo nuovo video dove magari parlo un pochino e mi prendo un pochino cura delle tue orecchie. Vedo un po' cosa pare. Quindi senza dire altro, perché non voglio fare delle intro troppo lunghe che magari poi stressano. Quindi voglio cominciare subito con il video. Dico solo che se sentite un pochino di rumore di sottofondo è perché fuori sta proprio diluviando. Infatti si sente un po' l'acqua sbattere in giro. Solo questo qui. Quindi nulla, non devo dire più altro. Cominciamo subito con il video. Quindi tu che stai guardando indossa un paio di cuffie auricolari come ho fatto io e preparati per assorbire l'essenza di questo video, dai. Quindi, allora, partiamo con qualche piccolo visual trigger di qua, di qua, di qua. E cosa ci possiamo dire? Allora, innanzitutto io volevo fare un po' così. Un po' così, un po' così. Nulla, dai, volevo sapere un po' qualcosina su di voi, quindi potete poi rispondermi senza problemi nei commenti. Intanto, sì, mentre parlo faccio qualche visual trigger, visual trigger. Quindi, dai, come sono andate queste prime settimane di scuola? Raccontatemi, raccontatemi, raccontatemi. Le mie sono andate abbastanza bene. Sta arrivando il difficile, infatti, questa settimana, che in realtà, quando uscirà questo video, sarà praticamente finita. Forse ancora no, ma quella dopo. Cioè, la settimana prossima per me sarà brutta proprio. Infatti, non so come farò a fare tutte le cose che devo fare. Però vabbè, in qualche modo faremo, faremo, faremo. Perché secondo me, adesso, noi lo troviamo più difficile. Questo inizio a scuola, uno, perché appunto, abbiamo appena iniziato. Due, perché non abbiamo ancora cominciato a fare gli argomenti belli. Vi faccio un esempio. Io, per esempio, di letteratura farò l'inferno di Dante. Cioè, abbiamo comprato la Divina Comedia. E adesso, in realtà, in questa settimana abbiamo fatto le cose iniziali. Quindi, tipo, da dove viene l'italiano, che deriva dal latino, i vari volgari. Quindi, in realtà, cose che, secondo me, non sono ancora molto, molto, molto belle, parlando di letteratura, appunto. Perché è più una storia. Però, vabbè, non ci preoccupiamo. Ho preso dei dischetti, dischetti di cotone, dischetti di cotone. E vorrei passarli un po', qua sopra, vedere se fanno un bel suono, oppure no. E poi farlo un po', qua, sulla telecamera. Sulla telecamera, questo per massaggiarti un po' le orecchie. Dopo lo faccio anche con le dita. Però prima un po' con questo dischetto, che è morbido. morbido, quindi, l'orecchio sinistro, cambio mano, un po' di lungo, l'orecchio destro, 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 ok. Scusate se magari non sono messo bene a fuoco con la luce. Dovrei esserlo. Poi, visto che mi stanno ricrescendo i capelli, tra un po' iniziere di nuovo il periodo. Non fate caso ai miei capelli. Perché, veramente, sono ingestibili. Poi, per di più, sono le tre di notte, quindi ci siamo appena alzati noi. E vabbè, dai. Questo è, questo è. Ok. Allora, adesso vorrevo usare un po' le mie mani. Le mie mani. Per fare un po' di massaggi alle tue orecchie. Quindi tu, come sempre, prova a chiudere gli occhi. E io ti faccio un po' di massaggi. Parto sempre dall'orecchio sinistro, che mi viene un po' più facile farlo da di qua. Quindi all'orecchio sinistro, facciamo tutti i massaggi che bisogna fare. Ok. E poi anche all'orecchio destro facciamo tutti i massaggi che vanno fatti. Così. Così. Col pollice, lo assaggiamo per bene. Ok. E siete. Così. Così. Riapri pure gli occhi, nel caso li avessi tenuti chiusi. Adesso devo trovare un'altra cosa da dire. Altrimenti non chiacchieriamo nulla. Intanto sì, magari stesso col cotton fioc passo ancora un pochino col cotton fioc. Buonanotte, col dischetto struccante. Passa un pochino sulle tue orecchie, così. Così. Allora, cosa possiamo dirci? In realtà, nulla di che. Uscite spesso voi, andate spesso in giro con gli amici, magari. Potete raccontarmi un po' cosa fate nel tempo libero, per esempio. Cosa fate nel tempo libero? Io sono abbastanza felice perché ieri sono uscito con i miei amici a Torino. Perché in classe abbiamo un compagno che viene dalla Bielorussia. e con lui parliamo solo inglese, infatti, perché lui parla un pochino di... parla un inglese abbastanza buono. Forse sa ancora un po' poche parole di inglese e parla quasi 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 nulla italiano. Cioè, ti sa dire, ciao, come stai? Ma niente di più, diciamo. E l'abbiamo portato a Torino per fargliela vedere un pochino. E' veramente simpatico. Parliamo in inglese con lui, quindi va bene. E niente. Scusate, ma volevo farlo. Adesso, cosa farò? Prendiamo veramente un cotton fiacca. E lo passiamo leggero, leggero, leggero qua sul microfono, proprio così. Sentite che bello il suono che fa. A me piace. Come se ti stessi quasi pulendo, 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 pulendo. Ogni volta che registro è sempre una esperienza nuova. Perché se la settimana scorsa ho registrato in un modo, adesso, cambiando luce, rimetto le luci davanti. Quindi, nello stesso modo, è la luce diversa. Io non so come facciano, ma sono o troppo luminose. E là tu dici, io, la percentuale che metto è sempre la stessa. Quindi, perché sono troppo luminose? O sono troppo bianche e le vorresti più gialle, ma di solito sono più gialle. E quindi, non capisci. Quindi, poi a volte sono troppo vicine, a volte sono troppo lontane. Perché in base a quanto sono illuminato, le allontano, le avvicino. Quindi è un po' un caos. Veramente vorrei troppo avere una stanza della casa fatta apposta per, come sa, la registrazione. con tutti gli sfondi che voglio, tutte le cose. So che finché vivrò in questa casa non potrò avercela, ma non è un problema. Quando poi prenderò casa io, farò in modo che ci sia una stanza fatta apposta per registrare video, fare foto, capito? Quindi una stanza dedicata un po' ai social, ecco. Secondo me è veramente, veramente carino. Veramente, veramente carino. Facciamo un altro po' di massaggi, che poi dopo voglio provare una cosetta carina, carina. Se riesco a farla venire bene. Veramente una chicchina, chicchina. Allora, dai, posso provare adesso a fare questa cosa qui? Magari viene bene, magari no, infatti spero venga bene. Allora cosa farò? Io ho qua sotto, qua sotto, un paio di cuffie, proprio un po' cuffie, un po' più grandi. Bene, adesso voglio provare a mettertele, ok? Tu ti sentirai un attimino più chiuso o chiusa, come tipo rumore di fondo delle cuffie e vorrei far arrivare dei beep. E tu dovrai dirmi quanto senti questo beep. E poi vedrai. Poi, poi vedrai. Quindi proviamo. Allora, per mettere delle cuffie però devo un attimino abbassare il microfono, ok? Ok. Mi sembra di dare delle messe molto bene. Sono molto carine, non mi piacciono. Quindi adesso tu sentirai tutto, magari un po' più chiuso, ma non preoccuparti. Quindi via con i beep, dimmi quanto li senti. Ok. Ok. Spero di non aver fatto troppo casino. Comunque sì, erano quattro beep. Siamo indovinati nel posto, giusto? Bravo. Oh, brava. Però solo una cosetta te la voglio chiedere. C'era uno di questi beep che era più basso di tutti gli altri. Capito? E' quello che hai sentito di meno. Ti ricordi qual è tra i quattro? Esatto. Perfetto. Quindi adesso in realtà farò soltanto un altro po' di visual trigger perché ci avviciniamo alla conclusione del video. Le tue orecchie stanno benissimo, non ti preoccupare, stanno benissimo, benissimo. Sì. Quindi cucù, cucù, adesso toccate. Iscriviti al canale se sei nuovo o nuova per entrare a far parte della OOPS community. E se sei un maschietto diventare un mio OOPSino, mentre se sei una femminuccia diventare una mia OOPSina. Poi, cos'altro ci possiamo dire? Lascia un bel like se il video ti è piaciuto. So che non era molto preparato, era molto spontaneo. Secondo me è venuto molto carino. Spero ti sia piaciuto, ecco. E commenta qua sotto con tutto quello che ti basta per la testa, va bene? Il video di oggi praticamente finisce qua. Quindi se vuoi stare ancora insieme a me, io ti lascio come sempre il mio video precedente. Ora il mio playlist. E qua il tasto per andare sul mio canale e poi cercarti tu il video che vuoi vedere. Perciò ragazzi vi devo lasciare buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte, 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 buonanotte. Buonanotte.